La ringrazio, Presidente. Cercherò di essere il più veloce possibile. Molti dei temi che ho sentito riportare questa mattinata e affrontare sono già stati ampiamente discussi nella giornata di ieri, sono questioni sulle quali ho già offerto il punto di vista del Governo. Come sempre, ovviamente risponderò prevalentemente alle cose che non condivido per cercare di guadagnare tempo, anche perché noi siamo impegnati in un altro appuntamento al Quirinale, sempre propedeutico, al Consiglio europeo. Sono molte le questioni che non condivido. Dico di più. Io ho sentito una grande quantità di cose false in questo dibattito e la considero una buona notizia. No, no, ma non vi preoccupate, poi ci arriviamo, poi ci arriviamo, le racconterò, le racconterò quelle che posso raccontare, ma voglio dire che la considero una buona notizia, perché quando si ha bisogno di dire cose che non sono vere, evidentemente non si ha molto da dire su quello che vero è.